Ben trovati con il TG LIS di Telebari. Le primarie ribattezzate unitarie si stanno trasformando in un simbolo di rottura. Restano distanti le posizioni tra PD che ha puntato su Vito Leccese e la Convenzione, il cartello di partiti e movimenti di centrosinistra tra i quali il Movimento 5 Stelle che sostengono la candidatura di Michele Laforgia. Il passo in avanti sancito dall'intesa sulla data del 24 marzo aveva fatto ben sperare, ma sono le regole a creare l'ennesimo stallo. Non c'è un punto d'incontro nemmeno sul numero dei seggi. Il PD spinge per sei seggi la Convenzione per cinque, uno per ogni municipio. L'ostacolo principale rappresentato dalla pre-registrazione, spiegano i democratici. I tempi sono troppo stretti per poter mettere in piedi una piattaforma con i dati crittografati, oltre al fatto che servirebbe un impegno importante sia in termini economici sia per l'impiego di risorse umane. Ryanair ha annunciato il suo nuovo operativo in Puglia per l'estate 2024 con 10 nuove destinazioni, tra cui Atene, Barcellona, Dubrovnik, Rodi, Tirana, Tolosa, Dabari, Danzica e Trieste, Dabrindisi. Questa crescita è sostenuta dall'impegno di Ryanair in Puglia con cinque aeromobili basati per un investimento di 500 milioni di dollari. Ryanair festeggia anche i vent'anni di attività in Puglia. La compagnia aerea numero uno in Italia in Puglia è lieta di annunciare l'operativo record per la Puglia per l'estate con oltre 800 voli settimanali su 80 rotte totali. E adesso le altre notizie del TGLIS. La prefettura di Bari sta acquisendo i documenti necessari affinché si possa valutare se sussistano i requisiti per disporre un'ispezione sull'eventuale condizionamento della criminalità organizzata nel capoluogo pugliese. L'attività segue i 130 arresti che il 26 febbraio scorso hanno svelato un presunto intreccio tra mafia, politica e affari a Bari. Tra gli arrestati per voto di scambio l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri in carcere e la consigliera comunale dimissionaria e moglie di Olivieri Maria Carmen Lorusso ai domiciliari. Dopo gli arresti i parlamentari del centro-destra avevano incontrato il ministro dell'interno Piantedosi chiedendoli di approfondire quanto stava emergendo dalla indagine della DDA sulla infiltrazione mafiosa all'interno dell'amministrazione comunale di Bari e di una sua partecipata. Impianto accusatorio confermato fatta eccezione per l'esclusione dell'aggravante di aver favorito un'associazione mafiosa. Si è concluso così a Lecce il processo d'appello con rito abbreviato davanti all'ex GIP del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e nei confronti dell'ex penalista barese Giancarlo Chiariello per corruzione in atti giudiziari con l'aggravante mafiosa per aver agevolato un gruppo di narcotrafficanti del Foggiano De Benedictis è stato condannato a sette anni, Chiariello a sei. Secondo l'accusa l'allora GIP De Benedictis in cambio del denaro fino a 30.000 euro ricevuto da Giancarlo Chiariello avrebbe emesso quattro provvedimenti di scarcerazione in favore dei clienti del penalista. È stato dichiarato incapace di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti e per questo assolto dal reato di stalking il 65enne Giuseppe Di Mauro responsabile dell'omicidio della giovane attivista cattolica Santa Scorese uccisa a coltellate sotto casa a Palo del Colle nel 91 e a novembre rinviato a giudizio per atti persecutori nei confronti della sorella della vittima Rosa Maria Il gruppo di Bari Angelo Salerno pur dichiarandone la pericolosità sociale ha assolto in abbreviato Di Mauro sulla base di una perizia psichiatrica della dottoressa Anna Margari E' stato approvato dalla Giunta regionale pugliese lo schema di disegno di legge per la promozione dell'attività degli enti del terzo settore Il terzo settore dichiara l'assessora al welfare Rosa Barone rappresenta una solida rete di protezione sociale che si è dimostrata indispensabile nelle fasi più complicate del lockdown e oggi necessita di un riconoscimento normativo chiaro per favorire il rapporto organico tra enti pubblici privato profit e privato sociale Quella approvata aggiunge Barone è una legge che si inserisce nel percorso della riforma nazionale e la regione Puglia in questi anni si è distinta per aver riconosciuto e sostenuto il ruolo dei soggetti che operano nel no profit La squadra mobile della questura di Barletta Andrea Trani ha arrestato in flagranza un noto commercialista del posto resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina La procura della Repubblica presso il tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto e l'applicazione di una misura cautelare L'attività in parola fa seguito ad ulteriore arresto eseguito nei giorni scorsi a carico di un altro soggetto andriese responsabile della medesima fattispecie delittuosa il tutto a testimonianza delle allarmanti modalità di commissione delle condotte illecite in materia di stupefacenti poste in essere nel tessuto sociale Giova a precisare che la posizione dell'indagato è al vaglio dell'autorità giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza di condanna definitiva I carabinieri della compagnia di Cerignola in Manfredonia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti di nove indagati ritenuti responsabili a vario titolo dai reati di traffico detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti l'attività investigativa partita dalla esplosione di un ordigno artigianale avvenuta a Vieste il 7 gennaio del 2022 che aveva danneggiato il portone d'ingresso dell'abitazione di un noto pregiudicato ha consentito di accertare un florido traffico di sostanza stupefacente la droga arrivava da fornitori di Cerignola e veniva venduta al dettaglio a Vieste dove i carabinieri avrebbero verificato numerosissimi episodi di spaccio della struttura interamente legno non è rimasto nulla e la natura è quasi sicuramente dolosa ad andare a fuoco questa volta è stato il chilometro un locale frequentato dalla Movida Salentina affacciato sulla costa tra Gallipoli e Nardò in territorio di Galatone sul posto sono intervenuti i vigi del fuoco e i carabinieri a cui sono affidate le indagini si tratta del secondo incendio dall'inizio dell'anno sulla costa Salentina arriva in Puglia il secondo congresso internazionale della ceramica da Lecce a Grottaglie a Cutrofiano il congresso metterà confronto esperti ed ospiti internazionali sul tema della ceramica dall'arte e artigianato dalla tradizione alla innovazione tecnologica ai rapporti tra creazione ceramica e ambiente il congresso coinvolge Italia Spagna e Portogallo dando corso alle finalità del protocollo tra i tre paesi l'evento coinvolge le principali città della ceramica venerdì giornata dedicata all'approfondimento e al confronto tra esperti internazionali nell'antico convento dei cappuccini di Grottaglie alla presenza anche dell'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro degli noci e con il TGLIS è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento grazie a tutti